ciao emmanuele mentre parlavi di resurrezione mi è venuta un'idea simpatica guarda un po un piccolo gesù lo stampato lo trovate qui per ricordarci che lui è veramente la via la verità e la vita e soprattutto è quel risorto che entra nella nostra vita lo potete realizzare oppure utilizzare il mio stampato eccolo qua già pronto già ritagliato tutti gli elementi eccoli qua l'unico elemento da da costruire è praticamente la base quindi andremo a incidere due tagli in questo modo che saranno poi lo spazio in cui inserire l'immagine del gesù risorto pieghiamo in due così semplicissimo poi prendiamo la nostra colla stick nel mio stampato c'è già scritto incollare lo trovate nel mio libro mettiamo un po di colla attacchiamo il nostro gesù sopra schiacciando per bene che come vi dicevo all'inizio ci ricorda che lui è la via la verità e la vita lo mettiamo qui dentro che guardate che carino prontissimo a ricordarci questa grande verità di fede se volete vedere le nostre puntate qr code cliccate qui sotto e potete vedere tutto quello che abbiamo fatto ciao bambini